Martedì 8 luglio 2020, è il centonovantesimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno del cancro, la chiesa ricorda Santa Priscilla. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Priscilla, il nome ha origine latina e significa antica. Il numero porta fortuna è il 3, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. L'8 luglio del 1947 nasce il cosiddetto caso Roswell, un quotidiano locale riportava che a Roswell, nel New Messico, i militari avrebbero catturato un oggetto volante non identificato, un UFO, si sarebbe schiantato al suolo e le parti recuperate sarebbero state portate alla base aerea di Wright-Patterson. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati l'8 luglio ricordiamo l'attore americano Kevin Bacon, la cantante Donatella Rettore e il comico inglese Marty Feldman. La citazione del giorno. Furore è una gemma preziosa incastonata lungo il tratto di costa che da Amalfi porta a Capri. Questo minuscolo borgo marinaro si trova in una posizione spettacolare a strapiombo su un fiordo. Roberto Rossellini e Anna Magnani scelsero proprio furore come loro casa. È infatti presente in paese anche un piccolo museo a loro dedicato.